Ha aggredito brutalmente la compagna incinta davanti alla caserma dei carabinieri dove la donna si stava recando per denunciare i continui maltrattamenti subiti, ma fortunatamente un carabiniere libero dal servizio lo ha visto e è arrestato. È successo a Sansepolcro dove una trentenne stanca dei continui sopprusi aveva deciso di denunciare il convivente. Ieri mattina così si è recata alla stazione dei carabinieri per raccontare la sua storia fatta di maltrattamenti in famiglia, lesioni e furti subiti anche nei giorni precedenti. Il convivente però l'ha seguita e raggiunta, proprio vicino alla caserma l'ha aggredita scaraventando la terra. Poi le ha strappato di mano il cellulare, forse preoccupato di quello che la donna avrebbe potuto mostrare ai carabinieri. La scena fortunatamente è stata notata da un appuntato dei carabinieri che si trovava lì vicino. Nonostante fosse fuori dal servizio, il militare è subito intervenuto. L'uomo è scappato ma è stato raggiunto e bloccato con l'aiuto di altri colleghi. La donna incinta è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro dove i sanitari le hanno prescritto otto giorni di prognosi. L'uomo, un vetto tenne di origini campane ma residente da tempo nel comune Biturgenze, è stato arrestato e portato nel carcere di Arezzo. Dovrà rispondere delle accuse di rapina e maltrattamenti in famiglia.